Tutorial di come passare ad avere dei capelli lisci spaghetto a dei capelli ricci Ciao a tutte ragazze, questo è il mio tutorial su come passo ad avere dei capelli ricci Mi sono appena lavata i capelli e potete vedere che sono abbastanza lisci Ma adesso vado ad utilizzare una schiuma, guardate Allora Così Bell'abbondante deve essere Sui capelli, in questo modo Aiuto Ups Ok, io la metto a partire dal basso e poi riccio con le mani Vedete che mi si stanno proprio pian piano arricciando Adesso che sono parzialmente mossi, me li vado ad asciugare Io non ho il diffusore, ma me li asciugo tenendomeli con le mani e passandoci l'aria del phon Adesso vi faccio vedere